Lo so che adesso penserete che io sia un pazzo, ma per me era la voce dello spirito della nave, era l'incarnazione della Goin' Mary. Non mi interessa affatto se nessuno vuole credermi, io ho sentito la sua voce quella notte. Sì, vabbè, però poi non piango veramente. Ciao, io sono Luca Bottale, beh, forse avrete capito che sono la voce di ASOP. Ah, sono un vero genio, uno che sa volgere qualunque situazione ha proprio vantaggio. E niente, volevo farvi un saluto e ringraziarvi dell'affetto che avete nei confronti del mio personaggio. In questo periodo il loro affetto per me sarà cresciuto, sento che d'ora in poi andrà tutto alla grande. E quindi un po' anche di me perché siamo un po' uno parte dell'altro. Scusa, non hai visto? Ci sono gli uomini pesce sul molo, gli scagnozzi di Arlo, io ho paura e non mi vergogno a dirlo. Ma magari un giorno poi ci incontreremo di persona. Ehi, sono salvo, ce l'ho fatta, sono vivo e vegeto, che merda! Vi saluto come ASOP, visto che io sono ASOP. Forza ragazzi, venite tutti a far parte della mia ciurma, io sono il vostro capitano ASOP! Ma quanto sei bravo a parlare, perché invece non proponi una soluzione? Io e ASOP siamo Troppo Ambition!